Buongiorno amici pesca sportivi, stamattina siamo qua per presentarvi, come già fatto dai miei colleghi, il fluorocarbon della SICOL. È un fluorocarbon che abbraccia quasi tutte le misure, quindi si parte da uno 0,10 ad arrivare ad uno 0,52 ed ha caratteristiche superiori a quei fluorocarbon che sono stati presentati fino ad oggi. Ha un'altissima resistenza a un'auto, un'abbracione che non è uguale ed un'invisibilità eccezionale. Non ci resta che provarlo e tenerlo nella nostra borsa per delle grandi pescate. Un abbraccio, vi saluto.